Ti adoriamo Gesù, ti adoriamo qui, in tutte le chiese del mondo, in tutte le chiese d'Europa. Signore Gesù, questa sera vogliamo pregare per tutta l'Europa scristianizzata. Signore, ti adoriamo Gesù e ti chiediamo che la fede sia minata dagli apostoli, da tanti apostoli che hanno piantato la chiesa nelle diverse regioni d'Europa. Ti chiediamo Signore che questa fede rinverdisca, che questa fede che è minacciata da dottrine erronee, da religioni diverse dalle cristiane e soprattutto dall'indifferentismo religioso, dai costumi morali perversi. Fa un Signore che questa fede sia rinsaldata nei buoni, sia incrementata nei devoli e sia ripristinata in tante e tante classi della società europea. Signore, l'Europa ha un regime laico, non ha un regime cristiano, pur avendo una civiltà cristiana. Signore, ti chiediamo la salvezza dell'Europa, la salvezza della nostra fede. Ti chiediamo la salvezza della fede in Italia, nella Sicilia e nella nostra città. Anche non ci creiamo delle illusioni, oggi la fede è venuta meno. C'è una fede labile, una fede esteriore, non una fede che permi i costumi eccellente veramente cristiani. Anche i praticanti non vivono di fede, ma vivono di pratica, ma la loro vita è paganeggiante. Signore, signore, ti chiediamo, rimardisci la nostra fede, aumenta la nostra fede. Lodi e gloria a te, Signore. Se aveste fede come un granellino di senapa, poteste dire a questa montagna, spostati, ed esse si sposterebbe, e all'albero di gelso mettiti nel mare, e l'albero si metterebbe nel mare. Signore, tu hai fatto ricorso a queste due paradossi, per dirsi che la fede opera meraviglia. Nel resto hai detto, nulla è impossibile a chi crede, nulla è impossibile. Noi abbiamo una fede debole, ti chiediamo, Signore, di credere. La fede, Signore, è un dono tuo, e senza questo dono tuo noi non possiamo credere. Non sono gli argomenti di ragione che possono convincerci. La fede non è una convinzione, la fede è un dono. Ti chiediamo questo dono, ma noi già abbiamo questo dono. Incrementa questo dono, Signore, e fa che noi lo facciamo aumentare, lo facciamo crescere, praticando le opere della fede, le buone opere. Lodi e gloria a te, Signore. Io credo in te, io credo in te, io credo in te, credo, credo. Io credo in te, io credo in te, io credo in te, io credo in te. Desserti, 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 Desserti. Desserti, Desserti. Desserti, 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 Desserti. 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 Desserti, 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 Desserti. Desserti, Desserti. Desserti, Desserti, Desserti. Desserti, 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 Desserti. Desserti, Desserti, Desserti. Desserti, Desserti, Desserti. perché nella fede è la nostra salvezza ma aiutaci Signore a manifestare questa fede con le opere le opere di fede che sono le opere di Cristo in noi le opere buone che sono opere di fede Signore fa che noi operiamo in conformità alla nostra fede altrimenti la nostra fede è inerta e come morta gloria e gloria a Te Signore chiedete e otterrete bussate e vi sarà aperto Signore tu parli al plurale e cioè chiedete insieme bussate insieme non chiedi e otterrai non bussi e ti sarà aperto ma si dice così a noi che siamo in due o tre raccolti nel tuo nome perché tu sei in mezzo a noi dici a questo nucleo di pochi o di molti al plurale chiedete e otterrete bussate e vi sarà aperto insistete insistete oh Gesù questa sera sulla tua parola noi vogliamo chiedere e siamo sicuri di ottenere ti vogliamo chiedere la guarigione di tutti la guarigione fisica di tutti cominciando da me cominciando da quelli che mi stanno accanto Gesù sulla tua parola noi tutti insieme ti chiediamo la guarigione la guarigione per tutti a te a te non è difficile salvare in pochi o salvare in molti guarire uno o guarire tutti tante volte guarivi tutti con un gesto dalla mano guarire tutti questa sera Signore nella fede ti preghiamo di guarirci tutti darci un segno della tua guarigione noi ti chiediamo la guarigione fisica la guarigione morale la guarigione spirituale la guarigione psicologica ti chiediamo la guarigione delle nostre piaghe interne, delle piaghe esterne delle malattie del corpo delle malattie dello spirito Signore guariscici fratelli e sorelle gridiamo al Signore confessiamo che Lui è il Signore e ci può guarire ma chiediamo al Signore la guarigione con tutta la nostra fede e crediamo che il Signore ci può guarire anzi ci vuole guarire il lebroso diceva il lebroso di domenica scorsa se vuoi puoi guarirmi e Gesù disse lo voglio guarisci Signore Signore ti chiediamo di volerci guarire ti chiediamo di volerci guarire guariscici oh Signore e la tua Chiesa che grida guariscici oh Signore vogliamo ripetertelo questa sera più volte noi crediamo in te Signore Gesù noi crediamo in te Signore Gesù crediamo che tu questa sera vuoi continuare a operare gli stessi miracoli gli stessi prodigi le stesse guarigioni che compivi oh Signore quando camminavi per le strade della Galilea il mondo vuole oh Signore farci credere che tu non sei più lo stesso ma tu sei sempre quello di ieri quello di oggi e quello di sempre e noi crediamo Signore che a te nulla è impossibile la mia situazione è una cosa ben piccola per te perché tu puoi guarire i molti e puoi guarire i pochi come poc'anzi oh Signore abbiamo ascoltato e allora oh Signore opera questa sera con potenza ma fa oh Signore che la mia fede possa essere così grande da credere che tu Signore fai dipendere tutto da me e non da te e allora vieni oh Signore perché il mio cuore non sia oscillante perché io creda oh Signore che non ci siano altre possibilità se non quella oh Signore di rivolgermi a te per essere guarito per questo Signore io sono qui questa sera io sono qui perché sono ammalato oh Signore fa che io lo riconosca io sono qui oh Signore perché sono ammalato per questo sono qui oh Signore io personalmente oh Signore sono qui perché sono ammalato ammalato nel corpo e nello spirito Signore e ti chiedo la tua guarigione sono qui oh Signore perché sono ammalato di tante malattie oh Signore e per questo ti chiedo questa sera di intervenire per questo noi tutti Signore Gesù vogliamo invocare la potenza dello Spirito Santo perché operi in questa comunità terapeutica e possa operare prodigio Signore scendi su di noi Spirito Santo noi tutti ti invochiamo Spirito di Dio scendi con potenza diciamo tutti Signore io sono malato Signore io sono molto malato Signore io continuo ad essere ammalato Abbi pietà di me guarisci guarisci mio Signore Signore apri le tue piaghe e vesti il tuo sangue sulle mie ferite sulle mie malattie e guarisci mio Signore Signore io sono malato io sono molto malato io sono molto malato io continuo ad essere malato io continuo ad essere malato stendi la tua mano stendi la tua mano e guarisci mio Signore dagli atti degli apostoli capitolo nove e avvenne che mentre Pietro andava a visitare tutti si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lida qui trovò un uomo di nome Enea che da otto anni giaceva in un lettuccio ed era paralitico Pietro gli disse Enea Gesù Cristo ti guarisce alzati e rifatti il letto e subito si alzò lo vide tutti gli abitanti di Lida e di Saron e si convertirono al Signore Signore questo miracolo è ordinato alla fede tutti si convertirono si convertirono più per il miracolo che per la predica di Pietro perché tuo Signore anche attraverso i miracoli pianti la fede perché il miracolo è una tua parola è un dabar significa parola di Dio tu parli con i fatti parli con le parole ma parli con i fatti e sono le tue parole o verbali o di fatto che fondano la nostra fede trasmettono la nostra fede Signore ti chiediamo questa sera di guarirci tutti e la guarigione di qualcuno di noi sia veicolo dalla conversione di tutti a te perché abbiamo ancora bisogno di essere convertiti a te siamo sì dei cristiani ma non cristiani convinti cristiani professanti cristiani che viviamo secondo la nostra fede e questo ci deve alle nostre malattie guarisci ciò Signore guarisci la nostra fede guarisci la nostra fede Signore Signore avevi detto poco fa una parola adesso ce ne dice un'altra aderite a me perché io sono alla vita ma poco fa il Signore diceva di a questo popolo se credeste ancora un pochettino di più se vi amareste un poco di più se pregaste un poco di più insieme otterreste tanti prodigi e allora il Signore ci chiede qualche cosa in più credere un poco di più amarci un poco di più e pregare insieme un poco di più questo soltanto ci chiede il Signore il Signore non mancherà di parola ma per credere abbiamo bisogno nello Spirito Santo Padre del Cielo dichiariamo mandaci il tuo Spirito sappiamo che da noi non possiamo nulla ma il tuo Spirito può piegare la nostra volontà può illuminare la nostra mente può darci il dono della fede può aumentare la fede lo Spirito Santo di Dio scendi su di noi e tuo Gesù offre il tuo Spirito dentro di noi perché noi crediamo e credendo otteniamo Spirito di Dio scendi su di noi 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 Spirito di Dio, scende su di me Spirito di Dio Adesso personalizziamo, scende su di me Spirito di fede Spirito di fede, scende su di me 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 Grazie a tutti. 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 Perché Dio è di parola, scenderà su di noi, non sappiamo quale sfera prenderà, però non può la parola di Dio andare a vuoto. Il Signore mantiene la parola e la guarigione oggi è scesa in questa sala, è scesa in mezzo a noi. Alleluia.